Arriva il via libera degli assistenti sociali che dicono sì all'adozione. Si tratta di un primo ma fondamentale passo in avanti nella vicenda che vede protagoniste le due mamme di Anghiari. La loro storia era emersa nel giugno scorso, poco dopo la nascita dei loro figli, due gemellini. Solamente una delle due donne, quella che li ha partoriti, è stata però riconosciuta giuridicamente. Da qui la battaglia in tribunale ad Arezzo che si era conclusa con il parere negativo del collegio giudicante a causa di una lacuna normativa. La vicenda delle due donne è particolare. Una infatti è la madre biologica in quanto suo l'ovulo fecondato in una clinica spagnola, mentre l'altra è con lei che ha partorito nel giugno 2022 ad Arezzo i due gemellini. La mamma non riconosciuta aveva così deciso di intraprendere la strada dell'adozione. Adesso gli assistenti sociali che hanno preso in carico la sua richiesta hanno dato parere positivo. Il percorso della coppia, al fianco dell'avvocato Ramona Vorri, prosegue davanti ai giudici del Tribunale dei Minori di Firenze. L'udienza nella quale probabilmente entrambe le donne saranno ascoltate dal giudice deve ancora essere fissata.